Un percorso per valorizzare l'entroterra cilentano, territorio ricco di storia, mito, tradizioni millenarie, cultura, gastronomie ed eccellenze locali. Con questo obiettivo il Comune di Albanella, con l'amministrazione guidata da Renato Iosca, promuove l'undicesima edizione di Un Libro Sotto le Stelle, da oggi a domenica, con il patrocino della Regione Campania e della provincia di Salerno. La manifestazione, presentata da Nunzia Schiavone, vedrà la partecipazione di autori, giornalisti e personaggi dello spettacolo, tra cui Emilio Fede, Enzo Nucci, Pierluigi Pardo, Toni Capozzo, Luciano Milone, Elisabetta Masso, Diosanna e Francesco Cicchella. Nell'ambito della rassegna sarà istituito un premio speciale, il premio Rosa di Santa Sofia, destinata all'autrice, alla giornalista, che più si sarà distinta nel corso dell'anno appena passato.